Guarda bene le tre linee, scegli un punto su una delle tre linee, fissa l'attenzione su quel punto e lascia che l'attenzione sia tutta presa da quel punto. A poco a poco, mentre questa mano si avvicina alla tua fronte, noterai che è più facile diventare assorbiti da quel punto e che allo stesso tempo, quando la mano supererà una certa distanza, per i tuoi occhi sarà più difficile tenere il fuoco, lo sguardo un pochino si incrocerà, le palpebre tendono a sbattere un pochino di più e noterai che potrai chiudere quando senti un pochino di fastidio e soltanto quando la mano toccherà il centro della tua fronte, potrai andare in uno stato di piacevolissima considerazione interna, nota che il fuoco è cambiato, le palpebre sono un po' più pesanti, gli occhi si possono chiudere, dormi tranquillamente, vai in profondità, vai dentro di te, la tua mente nel tuo corpo, in quello spazio della mente nel corpo in cui puoi essere davvero te stessa sempre di più, sempre più in profondità, sempre di più, lasciando andare davvero tutto, ogni singola parte del tuo corpo, ogni pensiero, ogni respiro puoi farti andare più in profondità, completamente, puoi sentire che già le tue braccia sono ammorbidite ancora di più, ancora di più, ancora più in profondità, ancora di più, bravissima, la tua mente è nel tuo corpo che vaga e il tuo corpo è disponibile per la tua mente per andare ancora più in profondità, mentre senti queste parole puoi anche sentire il tuo respiro e puoi sentire quando comincia ad alterarsi leggermente, forse diventa più profondo, forse diventa semplicemente più piacevole, forse ci sono già delle parti del tuo corpo che sono completamente, completamente rilassate, abbandonate, possono essere piccolissime parti o forse possono essere parti più grandi che tu puoi già sentire in questo momento e ovunque tu le senta puoi andare davvero con la mente nel corpo a sentire come stanno, come se fossi dentro il corpo ed espandere questa sensazione in tutto il resto del corpo, anche se sono punti piccolissimi, anche se sono lontani, come se tu li stessi unendo, intersecando tra tutte le domande, le parole, le immagini che arrivano nella tua mente, scegli soltanto il tuo colore preferito e tieni quello al centro della mente come se fosse una luce che puoi far scendere anche attraverso il tuo corpo, lasciando che il tuo corpo si illumini dall'interno di quella stessa luce, completamente, sempre di più, sempre in profondità, dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, ogni singola parte del corpo illuminata di quella luce, sempre più in profondità, bravissima, vorrei che immaginassi di essere in un ascensore di cristallo e fuori da questo ascensore puoi notare il panorama più bello che tu abbia mai visto o forse quello più bello che riesci a immaginare in questo momento e partiamo dal quinto piano e puoi guardare l'orizzonte, è tutto bellissimo, è come volare, dal quinto andiamo al primo scendendo e al primo si aprirà quella porta di cristallo e tu potrai camminare in quel paesaggio stando cento volte meglio di adesso, cinque e l'ascensore inizia a scendere ad andare giù, 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 come la tua mente attraverso il tuo corpo e il tuo respiro sempre più in profondità, quattro, tre, profondamente ancora più giù, l'ascensore di cristallo è a metà strada, puoi andare ancora più giù, tre, sempre più giù, due, ancora più in profondità, bravissima, uno, l'ascensore si ferma, tu sei cento volte più in profondità e puoi lasciare che la tua mente immagini di camminare all'interno di quel paesaggio, provando a sentire qual è la sensazione fisica che si prova sotto i piedi nel camminare lì, qual è la sensazione cutanea che si prova come la temperatura, c'è vento, non c'è vento, quali sono i colori dominanti in questo momento, in quel paesaggio, ci sono dei profumi, c'è una musica, come si sta lì dentro, trova il punto di quel paesaggio in cui puoi avere un angolo soltanto per te e in cui puoi stare davvero profondamente bene a notare come si sta, a notare quanto stai bene, rannicchieti in quel punto, in una posizione in cui sei comoda, assumi davvero quella posizione della tua mente e prova a notare come si sta profondamente bene, profondamente accettati, profondamente benvoluti, profondamente rilassati, ammorbiditi in quel luogo, nella tua mente, in questo momento, in ogni momento, sempre di più, ogni secondo che passa, sempre di più, bravissima, sempre di più, bravissima e vorrei che tu andassi all'interno della tua mente a recuperare le situazioni in cui forse ti è capitato in passato di avere dei tic e quando noti nella tua mente le immagini relative a quelle situazioni, forse ti puoi vedere dall'esterno o forse ti vedi la situazione con gli occhi che ti appartengono quando la vivi, forse puoi immaginare la parte del corpo che ogni tanto in quelle situazioni ha dei tic. Quando hai immaginato queste situazioni, me lo segnali semplicemente muovendo l'indice sinistro. bravissima, ora vorrei che sentissi quali sono le emozioni che senti in passato, hai sentito quando hai provato quei tic in quelle situazioni, forse la sensazione di mancanza di controllo, forse la sensazione di vergogna, forse tutte le emozioni e le sensazioni fisiche che hanno alcune volte in passato caratterizzato quel momento, quei momenti, sia da sola che in pubblico, sia quando eri in una condizione di ansia, sia quando eri in una condizione di verificarli senza sapere come stavi. E quando hai quelle emozioni, quelle sensazioni fisiche ben presenti, me lo segnali di nuovo con l'indice della mano sinistra. Bravissima. Adesso vorrei che tu stessi con la mente in quelle situazioni, ma vorrei che mentre io conto da dieci a uno, tu tenendo quelle situazioni in mente diventassi cento volte ancora più rilassata e che tu potessi sentire come è tutto perfettamente sotto il tuo controllo in questo momento e mentre vai in profondità e hai in mente quelle situazioni, quelle immagini, quelle sensazioni fisiche e anche quei tic, vorrei che notassi come da dieci a uno tutto diventa piacevolmente rilassato, tutto diventa sotto il tuo controllo perché puoi lasciare andare tutto. Dieci e comincia ad andare più in profondità e a vedere quelle immagini come se cambiassero colore e diventassero più morbide e quelle sensazioni fisiche come se iniziassero ad essere sotto il tuo controllo. Adesso nove, ancora di più, ancora di più, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, otto, ancora più in profondità, sei bravissima, sette, sempre più giù, sempre più giù, sempre più nel tuo controllo, sempre più rilassata, sempre più adesso completamente rilassata e quelle immagini sono sfumate, la tua sensazione è piacevole di controllo. Sei, ancora più giù, quattro, ancora più giù, sempre più in profondità, nel tuo controllo completamente, due ancora in profondità, è tutto sotto il tuo controllo perché sei completamente abbandonata e rilassata e più sei rilassata e stai bene e più è tutto sotto il tuo controllo. Niente da saper fare, soltanto rilassata, benessere, uno, completamente, completamente abbandonata e quelle immagini possono essere gestite con questa sensazione di piacere e tranquillità, completamente sotto il tuo controllo anche in questo momento. Sei bravissima. Tra poco, ti farò sentire sulla tua mano destra il gesto che potrai fare ogni volta che desideri riaccedere a questo stato di piacevole, confortevole relax, ogni volta che desideri ricordare alla tua mente quanto è piacevole e facile e rapido entrare nel pieno controllo del tuo relax e della tua condizione. Lo potrai usare per rilassarti, per concentrarti, lo potrai usare anche per sentire come il tuo corpo davvero ti obbedisce perché tu sei rilassata e quindi il tuo corpo sta bene e poiché sta bene grazie a te il tuo corpo ti è grato e poiché ti è grato fa quello che desideri e quello che desideri è farlo stare bene e farlo stare bene significa rilassarlo e quindi più sei rilassata e più stai bene e più stai bene e più lui sta bene. Ogni volta che metterai questo pollice in questo pugno e che lo vorrai potrai accedere sempre più rapidamente e sempre più profondamente a questa condizione di piacevole benessere di profondo relax. ogni volta che inserirei questo pollice e che lo vorrai esattamente così serrando il pugno potrai accedere a questa condizione di profondo e meraviglioso benessere sempre più rapidamente ed efficacemente e per uscirne da sola ti basterà con dolcezza e leggerezza riaprire questo pugno esattamente con la stessa delicatezza con cui tra poco io conterò da 1 a 5 e quando saremo a 5 tu avrai gli occhi aperti, sarai fuori da questa ipnosi, starai davvero bene nel pieno controllo di te stessa completamente abbandonata ma presente, rilassata eppure controllata. Da 1 a 5 per il tuo vero risveglio da oggi in poi ogni giorno un passo verso i tuoi obiettivi, verso il benessere completo, da 1 a 5 al 5 gli occhi aperti, starai davvero bene, sarai perfettamente nel controllo di te stessa. 1 e dalla punta dei piedi alla punta dei capelli tutto il tuo corpo sta bene, sotto controllo e bene, rilassato e bene. 2 ogni polo della tua pelle profondamente riserpira energia e rilassamento da questo ambiente, aria, energia e rilassamento e controllo. 3 il tuo corpo non si è mai mosso, senti che hai tutto il controllo della sua forma, della sua postura, sei bravissima. 4 il respiro più profondo della giornata e 5 puoi emergere, aprire gli occhi e stare davvero profondamente bene nel controllo di te stessa dalla punta dei piedi alla punta dei capelli. Che sensazione è? che sensazione è?